Dei organizzare il compleanno di tuo figlio? Da Piazzetta Imperiali facciamo festa! Piazzetta Imperiali, con la sala feste per bambini, la più bella animazione e il baby parking. Organizza nel modo più bello ed allegro la festa del tuo bambino. E la domenica mattina, la colazione più originale che c'è, con le mascotte preferite dai piccoli. Piazzetta Imperiali, a Latiano in via Roma 34, angolo Piazzetta Imperiali. O vivi di follia, o muori di monotonia. La nostra provincia vive e rivive la passione di Gesù Cristo nei vari comuni, nelle varie realtà, con una passione, con un sentimento religioso, con delle tradizioni popolari davvero toccanti. E quindi partiamo da Lizzano, dalla 47esima edizione della passione di Gesù Cristo. Ancora siamo all'inizio, ovviamente, di tutta la rappresentazione, ma già vediamo una folla molto nutrita e vediamo una bellissima scenografia innovativa rispetto agli scorsi anni. Siamo con Angelo Nisi, dell'Associazione Pietre Vive. Presentiamo questa edizione della passione di Gesù Cristo. È un'ennesima edizione in cui la nostra comunità rappresenta... 47esima, ho detto bene. 47esima, era il 1971 quando è stata fatta la prima edizione. Quest'anno si svolge per la 47esima volta e per l'ennesima volta la nostra comunità mostra forse il lato migliore di sé, quello di voler testimoniare la propria cultura cristiana attraverso questa grande manifestazione che vede tantissime persone che vi partecipano sia sotto l'aspetto recitativo che sotto l'aspetto organizzativo non trascurando l'enorme folla che voi potete constatare già dalle primissime battute di questo evento che narra la vita di Gesù dal suo ingresso a Gerusalemme fino alla sua morte in croce e alla sua risurrezione. Un grande lavoro scenografico, vediamo approntata una scenografia che rappresenta, io non sono un esperto, il tempio con drappi, con un colonnato, con dei capitelli sembrano davvero realtà, marmore, vera, invece è una costruzione. Sì, diciamo le nostre maestranze, il nostro laboratorio artigianale che gestisce sia le strutture che i vestiti per esempio, la sartoria ha realizzato anche quest'anno un miracolo perché questo che vedete abbiamo ridato volto a questo piazzale rendendolo quanto più possibile vicino a quelle che erano le atmosfere che si respiravano a Gerusalemme circa 2000 anni fa. Il convento poi ci ospita da tanto tempo e qui disponiamo veramente della massima libertà nel poterci esprimere senza nessun tipo di condizionamento come l'è stato da quando c'erano i frati che ci hanno insegnato che con il sacrificio e con l'umiltà si possono realizzare grandi obiettivi. Vedere giovani e anziani coinvolti nella rappresentazione. Sì, questo è un po' l'obiettivo che ci proponiamo da sempre quello di tramandare, così come io sono un beneficiario di una realtà creata da altri così anche stiamo lavorando sulle giovani generazioni per un tramando di queste tradizioni affinché mai si perdano. Teniamo presente che questa comunità dall'inizio del secolo, dello scorso secolo rappresenta la passione di Cristo prima con forma teatrale e magari nella lingua del posto quindi in dialetto diciamo noi poi si è tramutata con l'avvio dell'associazione Pietrevive in una forma quanto più spettacolare possibile non trascurando però quello che è l'evento fondamentale che è la preghiera collettiva quella che si sente, si respira, stanno in questi posti. I giovani sono la nostra attenzione principale perché proprio domenica scorsa abbiamo realizzato la passione con gli adolescenti mentre invece fra due domeniche realizzeremo un'altra passione a livello musicale con i giovani di Pietre Preziose che hanno realizzato un musical sulla vita di Gesù sull'ultimo periodo della vita di Gesù.